Benvenuti nel canale di LordEmonet, vedete già qua Hades ma avrete già letto dall'anteprima del video che questo sarà un ennesimo video su Hades, però questa volta andiamo a concentrarci sull'Unlimited, non tanto su Rotation. Quindi io vi voglio subito proporre la mia lista, questa lista di Hades è leggermente diversa da ogni lista che voi possiate aspettarvi perché riprende quello che è un vecchio archetipo che ai tempi del Mid-Ranger Shadowcrafter, ai primi tempi del Mid-Ranger Shadowcrafter, era utilizzatissimo, sto parlando chiaramente del Neptis, è un mazzo che è diventato purtroppo troppo lento e che difficilmente adesso riesce a veder gioco, Hades sicuramente è un plus che non mi dispiace affatto, però sono convintissimo che nel mazzo ha bisogno di un buff a Neptis molto probabilmente. Neptis 7 mana cambia veramente ogni partita. I matchup negativi sono chiaramente contro Rochia Unlimited, non vincete mai ragazzi, cioè dovreste partire primi, tirare turno 7 prova di forza, turno 8 Neptis, sperare che l'avversario t7 non abbia little e poi fare uscire da Neptis il Mordecai. Chiaramente la questione così è veramente tanto spivosa. Un mazzo invece contro cui avrete chiaramente molto, cioè molti pochi problemi è l'Elana. Ragazzi anche in Unlimited Hades counter Elana, non so come faccia, sarà che questo è un mazzo di stampo control e che comunque Hades ha bisogno di un control che gli giri attorno, però le partite sono veramente molto facili. Andiamo ad analizzare la lista. Prima di tutto, quando si builda una lista su Neptis, bisogna fare attenzione al suo effetto e quindi girarci attorno. Neptis cosa dice? Mette randomicamente difensori dal costo diverso in campo e li distrugge. Perfetto, quindi noi dobbiamo avere 4 costi diversi. In questo caso gli ho scelto 2, 7, 8, 12. Kaui è vero che ha un effetto spirale forte, ma non è solo per questo che ha inserito in questa lista. Dobbiamo ringraziare il fatto che il suo costo sia 7 perché Hades, se noi lo tiriamo con 6 mana, ci viene messo nel mazzo e il suo costo diventa 7. Qual è il mio ragionamento? Se invece con Alacrità avessimo messo un Hades anche a costo, non lo so, 5, sarebbe stato un problema. Perché a questo punto avremmo avuto 5 costi diversi nel deck. 2, 5, 7, 8, 12. E non sarebbe stato proprio tanto piacevole. Se invece fosse costato 8, ci avrebbe potuto rubare lo slot di Mordecai. Quindi è veramente un... cioè è veramente stata pensata bene come card. E io spero che veda supporto in futuro. Poi abbiamo chiaramente delle rimozioni, perché questo è un mazzo control. Stiamo parlando chiaramente di l'Arching Corpse. Zombie Party, 3 copie, è vero, è più forte il Pazzia Manifesta, però anche l'Arching Corpse, cioè non l'Arching Corpse, lo Zombie Party può fare veramente porcate, ma in realtà l'ho messa perché è una rimozione in più semplicemente. Abbiamo Soul Steal, 4 danni, andiamo a tumulare, quindi ci dà 2 ombre e andiamo anche a pescare una carta, molto forte. E poi direi che con le rimozioni abbiamo finito. Passiamo ai peschini. Ah vabbè, c'è anche Kawi che ha una rimozione. Peschini, Soul Conversion, Demon Eater, Andre Alphus, standard, come ha in ogni midrange Shadow Crafter. Poi abbiamo carte che si energizzano, le vediamo dopo. Abbiamo Lady Grey perché ha senso metterla, c'è un drop a 2 che con evoluzione ci cura e ci fa anche evocare un altro drop a 2, tipo un Arching Corpse. E poi abbiamo, vi ho detto, le carte che si energizzano. Sono il Phantasmal Core che ci aiuta ad avere ombre e senza il quale chiaramente non potremmo mai andare a tirare una Neptis che ci possa dare subito un Hades full value. E abbiamo Test of Strength, prova di forza, 2 copie. Questa carta è messa semplicemente per andare a counterare quei mazzi che vanno faccia. Noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a tirare Mordecai, mettiamo prova di forza e quindi stalliamo la partita perché Mordecai non può essere traddato. Andiamo subito a vedere dei match. Allora, primo match subito contro Evencraft perché vi voglio far vedere come si gestisce il matchup per l'appunto. Portiamo primi, il che non è male. C'è bisogno chiaramente però di Neptis per fare un turno 8 bello corposo e la mano va mulliganata tutta ad eccezione di Lady Grey. Bisogna pescare chiaramente un drop a 2 per Lady Grey perché vogliamo fare poi turno 5 Lady Grey più Phantasmal Core. Il Phantasmal Core è buono, doppio Phantasmal Core già mi manda in allarme. Zombie Party non è una carta che volevo, volevo un minion a costo 2, non una rimozione e qui a costo 3 io direi tempo play, ci giochiamo un Phantasmal Core. Triplo Phantasmal Core fa veramente schifo. Fa veramente schifo, è vero che molto probabilmente il mio Hades adesso andrà ad essere giocato turno 6 e andrà a fare 6 danni a tutti, però c'è il problema che lui è un Elana, cioè lui mi tira subito Elana e quindi ho bisogno in realtà di mettere un altro Phantasmal Core per forza di cosa. Purtroppo sono obbligato dalla mia mano che fa totalmente schifo. Lui qua va a tirare addirittura però Tenko e Tenko mi dà veramente fastidio perché è una carta che non posso gestire molto facilmente, o meglio devo gestirla tirando Mordecai, ma in realtà c'è il mio problema, cercate di capirlo, se io metto Mordecai non gli posso contestare la board, quindi devo per forza avere Hades che pulisce sempre più e quindi devo tirare prima Hades e poi Mordecai. Potrei già tirarlo ora Hades, ma in realtà in realtà sì, avrei potuto già tirarlo ora e poi il prossimo turno fare Phantasmal Core più Lady Grey, invece ho invertito le Ryukate. Comunque, Mordecai mi salva da Tenko, il problema di Mordecai è che non contesta Elana, quindi devo giocarmela bene, cioè questa combo di carte mi ha veramente distrutto. Come ve l'ho detto la giocata non è fortissima, se avessi fatto chiaramente al contrario sarebbe stato meglio, però niente, prossimo turno si va a fare per forza di cose Hades e si spera che si possa vincere. Più che altro questa Lady Grey adesso non ha il benché minimo valore, lui tra l'altro va ad evolvere a gratis questa della fill, ma forse ho fatto anche bene a tirare Hades, perché qualora avesse giocato la spell a 4 che banna sarei stato veramente nella merda. Qui vado a contestare tutto, sono già a 30 ombre grazie al triplo soul steal, sarebbe veramente forte, non triplo soul steal, il triplo core. Qua vi dicevo, sarebbe stato veramente molto forte avere Neptis. Neptis mi curava, metteva Mordecai, poteva mettere un altro Hades, e insomma. E qui io sono veramente messo male, perché questo Kel gli pompa tutta la board e mi impedisce di giocare Mordecai, perché se io qua facessi Mordecai avrei un 8-8 incontestabile, quindi devo sicuramente giocare soul steal per togliere pezzo, devo sicuramente tumulare Mordecai e devo giocare Lady Grey core evolve per andare a risettarmi la vita. Ottimo trovare zombie party che probabilmente mi andrà ad aiutare il turno dopo, perché adesso con zombie party posso mettere 3-2-2, quindi tankarmi i danni di Tenko. Voi pensate, se l'avversario non avesse avuto Tenko, che cosa avrebbe fatto? Probabilmente nulla ragazzi, perché tutti i danni che mi sta facendo faccia sono per Tenko. E è vero, il suo mazzo così risulta più lento, però mi piace come idea, perché è vero, rallenti, hai meno vantaggio contro deck come tipo Roach, cioè come per esempio Roach, però un mazzo come il mio vai veramente a dar fastidio a livello incredibile. Qua comunque ve l'ho detto, tiro 3 zombie, cioè o meglio tiro 3 drop con 2 di salute per impedire al suo Tenko di andare faccia, e a questo punto è una scommessa. Se lui non ha carte per togliermi tutta la board, ho vinto la partita. Se lui invece ha anche solo un'epurazione di Temis, un decreto di Temis, perdo. Ma dubito veramente che giochi delle carte del genere, lui va a pulire di Tenko. Come vi ho detto, la partita a questo punto direi che è vinta, perché vado a giocare Mordecai, lui non mi può più buttare giù questa bellissima carta, vado anche a mettere una Dimoniter, che comunque è un 1-2, e il Kel viene tolto tranquillamente da Hades. Ho anche Neptis, malissimo non averla vista prima, e mi è girato male, inutile che ve lo nasconde ragazzi, mi è girato veramente veramente male. Qui comunque la giocata è sicuramente andare a tirare l'Hades, tankare tutto con Mordecai e andare a fare 12 danni faccia. Lui ha risolto tutti gli effetti, ha finito le risorse, e niente, vado anche a tradare così per sfregio, vado a ripristinarmi la salute di Mordecai, vado a tirare prova di forza per fargli capire che tipo di deck sto giocando. Ah, tra l'altro, ragazzi, questa è una cosa che vi consiglio. Contro gli avversari andate a giocare il maggior numero di carte possibili. Non siamo in torneo, quindi non ha senso nascondere agli avversari che tipo di mazzo stiamo usando, quali sono le nostre carte, quali sono le nostre tech, quindi ha senso mostrargli il vostro deck qualora lui lo voglia emulare. Quindi questo è il motivo per cui vado a giocare prova di forza. Ed è il motivo per cui nella prossima partita farò una serie di giocate. Allora, seconda partita, qui vorrei farvi veramente fare attenzione sul finale, perché ho fatto una serie di giocate che potreste non capire, ma ve le spiegherò alla fine. Ennesimo è lana, vabbè, è inutile che ve lo dica, sapete già che il matchup è favorevole, anche perché sono due video che io ve la meno col fatto che Ades è forte contro elana. E qui abbiamo una mano giocabile, Ades, Lady Grey, Lady Grey turno a 4, non è male. Abbiamo anche una Neptis, che può aiutarci i turni seguenti. Qui sicuramente vado a giocare Andrea Alfus, lui mi fa un trade che è abbastanza safe, e mi va subito a curare, quindi va bene. Vado a rimuovergli il pezzo con la soul steal, anzi no, vado a tirare il core. Ci sta core perché mi fa settare zombie party più Lady Grey di turno a 4. Qui però secondo me lui sbaglia, perché non conosce il mio mazzo e va a tirare un Kel così a caso. È vero che non conosco io la sua mano, però piuttosto me ne sto con le carte in mano. Vabbè, in ogni caso vado a evocare un altro Andrea Alfus, grazie a Lady Grey, vado a prendermi queste 10 ombre e vado ad avvantaggiarmi così per le lana. Cioè non per le lana, sì anche per le lana in realtà, perché mettendo board gliela posso contestare molto facilmente. Vado però principalmente direi a toglierla e pescare. Ha senso togliersi una Naptis perché tanto ne basta una. Ha senso evolvere questo Andrea Alfus perché ho bisogno di pescare. E ha senso anche giocare l'Arching Corpse per andare a contestare un'ipotetica della fill. Ipotetica della fill che non arriva, però arriva la seconda lana, quindi i suoi drop saranno sempre più grossi. Però a questo punto Kaui T7 o Naptis T8, quindi non sono spaventato. Posso tirare Pazzia Manifesta, posso andare a contestare di tutto, in realtà anche senza giocarmi l'Arching Corpse, il che è ottimo, quindi rimane questo 1-2 con questo effetto spirale incredibile in campo. E qualora mettesse guardie io posso assolutamente rimuovere con le mie 1-2. Mi mette della fill che rimuovo semplicemente attaccando con la 1-2 e vado anche a tirare Kaui per stallare e obbligarlo più che altro a giocare qualcos'altro. In realtà qui avrei potuto tirare Phantasma al Core, andare ad evolvere e andare a 20 ombre. Però ho detto, beh, metto Kaui perché così, qualora mettesse qualcosa di particolarmente pericoloso, posso andare a toglierglielo. Mi tira Unical, che non è veramente un problema. Avevo calcolato comunque che sarei arrivato a 30 ombre con Naptis, perché so già che Ades me ne da 7 e so che gli altri me ne danno praticamente 3 perché sono una testa. E vado a curarmi di 4, non che mi serva perché, ve lo sapete, Naptis, non Naptis, Ades sia in rotation che in ulli, contro Elana rimane sempre full vita o quasi. Giusto l'avversario di prima che aveva Tenko mi ha un po' spiazzato. E qui faccio un turno della Madonna. Naptis evoca Ades. Evoca anche Mordecai, Ades è full value, gli fa subito 6 danni e praticamente io per 8 mana ho fatto veramente un turnone. Cioè è il turno principale più che altro, quindi se non facessi un turnone in questo modo veramente andrei a perdere. Qui ragazzi ho Little perché potrei andare di Naptis, di Mordecai e di Ades, quindi fare in totale 16 danni, lui ha 15 vita. Però ve l'ho detto, dovete andare a far vedere al vostro avversario le carte di cui disponete. Qui tra l'altro vado a tradarmi a casissimo Naptis, non ce n'era bisogno perché la 10-5 sarebbe stata rimovibile dal PTP, quindi bastava attaccare con il Mordecai, bastava rievocare Mordecai, evolverlo e andare su 13-12. Poi tanto c'era la prova di forza che avrebbe impedito ogni suo tentativo di andare a ribaltare la situazione. E comunque diciamo che ho missato Little intenzionalmente perché volevo mostrargli la prova di forza, volevo da una parte anche BMare e mi piace mostrare all'avversario questo tipo di deck perché proprio voglio portare questo mazzo e voglio far capire quanto esso possa essere veramente valido. Qui in ogni caso mette 6-7 e 5-5, ragazzi guardate tra elana che cosa non fanno e vado di nuovo a togliergli ogni cosa però perché questi Mordecai sono veramente delle rimozioni fantastiche. Prossimo turno è finito tutto grazie all'effetto di Hades, l'avversario unitivo era la quarta elana e si arrende a questo punto perché non può più far niente. Io spero veramente che il video l'abbia ispirato, o meglio che la partita l'abbia ispirato e che lo porti a giocare questo mazzo. Andiamo adesso a staccare un attimino, basta elana, concentriamoci su un matchup differente. Shadow, Shadow che cosa vuol dire? È Hades, cioè potrebbe essere Hades, quindi sono avvantaggiato io partendo primo ma potrebbe anche essere un mid-range Shadowcraft normale. In quel caso il matchup sarebbe di nuovo a mio favore perché difficilmente riesce a farmi danni in realtà lui. Quindi ho T2 Andrea Alfus, lui potrebbe rimuovermelo con una rimozione, qualsiasi, pazzia manifesta o la spell che fa 3 danni. Ha pazzia manifesta, che brutto non vederla animata, va a giocare questa bestiaia del teschio, va ad attaccare, bla bla bla, ci teniamo questa Lady Grey, andiamo anche a giocare la soul conversion, beh sì, perché la sua bordo veramente non mi spaventa, e va a trovare un'altra bestiaia del teschio, mette un casino di 1 o 2, proprio a profusione, e qui io posso settarmi Phantasmal Core? No, Phantasmal Core lo andiamo a tirare turno 5 con Lady Grey. Vado a giocare Oratore d'Ossa. Oratore d'Ossa è una carta che ho rimosso poi per giocare la spell che ha 2 mana fra 3 danni, perché mi sono d'accordo che questo deck ha veramente bisogno di tante rimozioni, quindi una in più di certo non fa schifo, e più che altro Oratore d'Ossa veramente cosa fa? È un 2 mana 1-1 che quando muore evoca un 1-1, cioè sì, forte, ok, però meglio avere dell'altra. Qua vado chiaramente ad evolvere Lady Grey, anche per la possibilità di andare a trovare un Andréa Alphus, quindi un peschino in più, cosa che succede, molto forte tra l'altro, e vado direttamente a 14 ombre, che con questi 3 minion direi che sono 18. Sono 18 ombre, lui tra l'altro va a traddarmi l'1-1 che gli permette di giocare anche la pazzia manifesta, quindi in realtà ha avuto sfiga perché il miglior drop era sicuramente il 3-5, però aveva solo un 33%, ci sta a non beccarlo. E in questo caso non ho Neptis, il che è veramente male, quindi andrei subito a cercarmela, andrei subito a giocare tra l'altro anche l'Immortale Barcollante, perché prossimo turno vorrei fare Soul Conversion più Hades. Vorrei anche fare Mordecai per andare ad avere un vantaggio contro di lui, qua tra l'altro ci scambiamo il Larching Corpse, non capisco tra l'altro perché giochi pull, chiaramente la Divorademoni è molto più forte perché ha uno in più di salute, e lui mi tira un altro Immortale Barcollante, qui indubbiamente vado a pusciare tutto a faccia e vado a pescare il più possibile. Non tiro Hades perché non ne sento il bisogno, vado però a tirare Soul Steal, e adesso posso iniziare a pensare ad Hades i prossimi turni. Posso pensare più in realtà a Mordecai, Mordecai è molto più interessante, non capisco perché non abbia fatto Oratore d'ossa, sarebbe stato un 2-1-1 in campo, però vabbè. Lui mi tira Hades, quindi mi fa capire finalmente che tipo di mazzo sia, e io vado a tirare Mordecai. Mordecai che per lui è circa incontestabile, o meglio lo sarebbe qualora non tirasse Plagged City. Plagged City è sicuramente fastidiosa, però per andare a contestarla io direi che posso sicuramente tirare pezzi, perché sì, cioè più che altro sono ombre, quindi perché non farlo? E posso andare a giocarmi Hades, quindi adesso non ha senso più mettere pezzi singoli, ha senso mettere queste spell di Hades, e tra l'altro vado a settarmi un Hades per il turno dopo, perché con Soul Steal più Hades avrei avuto precisamente 30 ombre. Allora, ve l'ho detto, la partita di prima era messa lì semplicemente per staccare, perché farvi vedere tre lana di fila forse è leggermente snervante e stancante, però chiaramente torniamo al deck contro cui questo mazzo ha vantaggio. E che dire, qui io toglierai solo Kaui, Soul Steal in realtà mi piace, devo vedere Neptis, va benissimo Andrealfus e devo partire primo. Parto secondo, il che in realtà... mi impensierisce poco, perché avete visto che vantaggio abbiamo. Comunque ho abbastanza rimozioni per contestargli, non dico ogni cosa, però quantomeno l'early game. Posso contestargli anche un ipotetico spam di board grazie ad Hades, spam di board è chiaramente non troppo forte. Vado subito a tirare Soul Steal, perché a questo punto ho bisogno di pescare, chi se ne frega dell'Arching Corpse, tanto ci uscirà da Lady Grey. E andiamo al prossimo turno di Lady Grey, più Soul Conversion o più drop a due color roppi scassi. Black Knight Sculptor ci dà fastidio, e Andrealfus invece è molto forte. Avrei anche potuto evolvere Andrealfus, ma non credo che sarebbe stata una bella giocata, visto che ho Soul Conversion in mano. Comunque qui Elana mi dà problemi, in realtà non tanti, perché viene tradata dalla pazzia manifesta. Ho bisogno di pescare grazie a dimora demoni, ottima veramente pescata. Questo l'Arching Corpse gli fa veramente un male incredibile, cioè lui non è libero di mettere minion singoli forti, perché c'è questo l'Arching Corpse che è veramente fortissimo. Non può tirar Kel perché l'Arching Corpse lo tradda? Eh, è abbastanza fastidiota. Vado a tenermi Soul Conversion chiaramente come attivatore, e qui chiaramente ho bisogno di fare Ades molto probabilmente. Vado a tradare con, cioè in realtà nulla, vado con i 2-1-2 faccia, e poi vado a tirarmi Ades. Il problema è che faccio una giocata sbagliata per metà, perché qui Lady Grey non ha, cioè ha senso, però Lady Grey adesso deve andare sul 3-3. Credevo di poter traddare la 3-3 senza uccidermi in 1-2, ma invece mi sbagliavo, e quindi sono andato veramente a giocare in modo stupido. E quindi ho traddato la mia Lady Grey sulla 5-3, sì, sulla 5-3 anziché la 3-3. Quindi, sbagliando questa giocata, mi ritrovo con un 3-2 in meno, però la situazione comunque non cambia, perché ho quasi 20 ombre, no, non è vero, ho quasi 10 ombre. Il che in realtà potrebbe essere un problema, eh. Però per fortuna lui tira l'Aexiel, che è una giocata passivissima. Non la evolve neanche, a me sta benissimo sta cosa, ottimo aver trovato Neptis. Vado però, direi, principalmente a giocare Ades, e vado a settarmi l'amuleto. Prossimo turno, indubbiamente Neptis. Vediamo un po' che cosa potrà fare. Spero che evochi Mordecai, perché a questo punto è abbastanza fondamentale. Lui però mi fa, giocate veramente forti, cazzo, figo il fedele. Cioè, in questo momento, no, Servant. Servant è discepolo, discepolo, non fedele. In realtà non ricordo la differenza in italiano. Rip me. In realtà a questo punto ho bisogno, più che di Mordecai, di Kaui. Kaui è fondamentale, perché spacca, curo di 7, vado a devolvere Neptis, e vado ad evocare un 1 che esce dalla tizia a 2 mana. Qui so già che il Servant of Repose non andrà ad attaccare, andrà sicuramente a tradarmi tutto grazie all'effetto di Kel, però non c'è problema. Ho due Ades settati, ho il Phantasmal Core, e quindi vado a 12 ombre. Non 12 ombre, che cosa dico? Vado a 33 ombre. Mi ripristino questo punto evoluzione, tiro Lady Grey, come vi ho già mostrato, evolvo Lady Grey. Non ha senso attaccare, perché sono già full vita, però sono stupido e vado ad attaccare. Non ha veramente senso sta giocata. Però la faccio. Tanto è vero, non avrebbe cambiato nulla, ma l'avversario concede. Cioè, il punto è che quando Elana capisce che gli posso togliere tutta la board ogni turno, facendogli 12 danni, concede per forza. Quindi, questa è la lista. Se volete rivederla, chiaramente potrete mettere tranquillamente il video dall'inizio e riguardarlo da capo. E che dire, per questo video può essere tutto. Io vi lascio qui col bellissimo Ades. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate di questo mazzo. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi! E viva Cristo! La 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 la! Ma bella Cristo! La 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 la! Mi dico Cristo! La 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 la! Gesù Cristo! Oh 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 oh! Yeah yeah yeah! Gesù!